Hola amigo! Se sei un batterista alle primissime armi stai qui perché ho il pezzo giusto da farti suonare. Super facile e lo puoi fare subito. Vediamo se lo riconosco. E' TK421 di Lenny Kravitz. L'ho scelta apposta perché puoi riuscirci anche pochi giorni dopo che ti sei portato a casa la batteria dal negozio. E a proposito, prima di suonare, ti segnalo il mio corso gratuito con le prime tre lezioni di batteria che ho fatto a centinaia di neofiti totali. Trovi il link in descrizione oppure clicca qui in alto. Ma adesso proviamo a suonare. Vedrai anche lo spartito sotto che scorre. Non preoccuparti se non lo sai leggere, intanto ti fai un'idea di come funziona. Siamo pronti? Bacchetta in mano, vamos! Bacchetta in mano, vabbiamo! Now it's time to face the fear The conversations in your mind You can't tell me how it really makes you feel And I will promise you it will be fine Come on baby, get the one Can you feel it, I'm a TK421 Look out baby, drop the one So much better, I'm a TK421 All of us take it to the status field The congregation is alive All I'm asking is for you to break the seal So we can dance our way to the divine Hey, come on baby, get the one Can you feel it, I'm a TK421 Look out baby, drop the one So much better, I'm a TK421 No hell No hell You can feel it, I'm a TK421 Look out baby, I'm a TK421 So much better, I'm a TK421 So much better, I'm a TK421 Can you feel it, I'm a TK421 Look out baby, drop the one So much better, I'm a TK421 Allora, come è andata, ti sei divertito? Se hai bisogno, ripeti da capo Il video è qui apposta per te Ricorda che il ritmo è sempre uguale Devi solo mettere qualche colpo di piatto ogni tanto Se vuoi capire meglio come funziona la batteria Ti ricordo di nuovo il mio corso gratuito Dove ti regalo le prime tre lezioni Che faccio con chi sta a zero Come magari sei tu in questo momento Ti dico solo che ho fatto suonare anche mia moglie E le mie figlie piccole per testarlo Quindi credimi che lo può fare chiunque Se invece vuoi altre canzoni Questa è una playlist con vari tutorial Anche più avanzati Ma se vuoi dare una sbirciata Ci sono già un sacco di canzoni famosissime Che puoi provare a fare Oh fammi sapere com'è andata eh Lasciami un commento Se ancora non l'hai fatto Iscriviti al canale Io sono Dado Bertonazzi Se vuoi dare un occhio anche alla mia scuola online Vai su suonarelabatteria.com E ti aspetto al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti